20 milioni di euro in arrivo a Brindisi per la città europea dello sport? Forse, anzi per il capogruppo del PDL in consiglio comunale Mauro Dattis si tratterebbe di una vera e propria bufala. La somma infatti, dice Dattis, sarà molto ma molto inferiore. Il fondo dello sport infatti è pari a circa 210 milioni a partire dal 2014 e fino al 2020. Si tratta quindi di 30 milioni complessivi annui per tutta l'Europa ed inoltre i fondi a disposizione della regione sono molti segui per tutta la Puglia. L'assegnazione a Brindisi del titolo di città europea dello sport 2014 è il frutto di una preziosa collaborazione e deve renderci tutti orgogliosi, dice l'ex vice sindaco di Brindisi. Questo è anche merito degli sforzi compiuti in passato. Ma annunciare che Brindisi avrà accesso a fondi per massimo 21 milioni di euro attraverso questo riconoscimento è una bufala di dimensioni straordinarie. Il fondo per lo sport, destito dal commissario europeo, è pari a circa 210 milioni a partire dal 2014 e fino al 2020. I fondi a disposizione della regione sono molti segui per tutta la Puglia. In Europa non sono attualmente previsti istanziamenti nello specifico per lo sport. All'interno del comitato delle regioni di cui faccio parte, dice Dattis, il relatore europeo Roberto Pella, che è anche responsabile nazionale Anci per lo sport, ha proposto alla Commissione europea di allargare i fondi strutturali europei all'impiantistica sportiva. Con lui parteciperò nelle prossime settimane ad un incontro con il commissario europeo allo sport per l'estensione dei fondi strutturali all'impiantistica sportiva di nuova e vecchia generazione. Per dimostrare la volontà di collaborare, suggerisco al sindaco Gonzales, senza perdere tempo a inseguire numeri che non ci sono, di richiedere invece di accedere ai 24 milioni che il governo italiano mette a disposizione dei comuni. Questi fondi sono una recente conquista del Lanci e sono effettivamente disponibili. Grazie.